Mentre gli uomini fanno Po-po-po, 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 tutti insieme. I uomini di più, Po-po-po, Po-po, Po-po-po. I bambini che non si sentiranno mai fanno fu 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 Il microfono a musica. Ti chiami? Geno. Allora, io ti presto questo microfono per tutto il tempo dell'esecuzione di origine. Tu stai tranquillo, queste cose le fa anche Springsteen, le fa anche Madonna. Uguali, uguali a me. Ok, e mi chiamo le fa. Adesso dovresti fare per piacere FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Ce li ricordiamo? Ce li ricordiamo? Allora, vai con le mani Poi ti chiamiamo Li ricordiamo la materia Si è la materia Siamo l'al mathematicso SHS Siamo l'al lakh Siamo l'al largest La voglia , la voglia La voglia Grazie a tutti. Grazie a tutti.